Il primo passo nel cammino di Adolf Hitler verso il potere è il battesimo del fuoco nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. In questo infernale conflitto, nuove e mostruose armi fanno tremare la terra e spazzano via interi eserciti. Era l'unico posto sicuro. Fuori c'era la morte. Visiteremo una fortezza attaccata dai cannoni più grandi del mondo. Ecco il suono dei colpi. Mamma! E' una cava medievale trasformata in base segreta. Adolf Hitler è in queste linee, ma non sa che sotto il suo naso si sta progettando un attacco a sorpresa. Il sottosuolo diventa un santuario e un'arma. Non mi meraviglia che il villaggio sia scomparso. Seguiteci in una nuova puntata di Le città segrete nelle trincee con Hitler. Sono Don Wildman e sono in una trincea appena fuori Ypres, in Belgio, sul fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale. E' stata chiamata la Grande Guerra, quella che avrebbe dovuto essere l'ultima. Il più sanguinoso conflitto che il mondo avesse mai visto fece crollare imperi, creò nazioni, massacrò quasi 20 milioni di persone e preparò la scena al più odiato dittatore della storia. Adolf Hitler Le maggiori potenze europee combattono per questioni di confini da più di mille anni. Ma nel 1914 i conflitti si concentrano in una sola guerra. Gli imperi centrali e le forze dell'intesa si affrontano in tutta Europa e in particolare lungo il fronte occidentale. Per quattro lunghi anni gli scontri infuriano lungo 756 chilometri di trincee, dal canale della Manica alla Svizzera. In questo punto, la regione intorno ad Ypres, in Belgio, nascono i due più grandi mostri del XX secolo, la Guerra Moderna e la follia di Adolf Hitler. La sua ascesa al potere inizia durante la Grande Guerra, in mezzo al sangue e allo squallore delle trincee di Ypres. Incontriamo l'esperto di scienza militare Martin King, che ci guiderà attraverso le sconosciute strutture sotterranee utilizzate da entrambi i contendenti per cercare di spezzare la stasi della guerra di trincea. Queste qui erano le trincee inglesi? Sì. Certo, non sembra un posto molto sicuro. No, non offrivano grande protezione, a parte qualche sacco di sabbia alle pareti. Le trincee sono profonde appena un metro e mezzo e non hanno alcun supporto strutturale. Qui i soldati vengono lasciati ad affrontare armi che nessuno ha ancora mai visto, capaci di trasformare questi precari rifugi in crateri. Chiunque tiri fuori la testa rischia di essere falciato da una nuova macchina di morte, la mitragliatrice. Perfezionata in America, è capace di sparare 30 volte più velocemente di un cecchino. Infine, ci sono le nubi di gas venenosi che possono comparire in ogni momento. In questo scenario da incubo vi è un solo luogo sicuro nel raggio di diversi chilometri. Ah, è un tunnel. È chiamato sub-tunnel. Però dove porta? Nella terra di nessuno. Accidenti! È lunghissimo! È tutto scavato sottoterra e si estende sotto tutto il campo di battaglia. Tunnel come questo, tra le poche strutture in caccia e struzzo nelle trincee inglesi, si allungano per almeno 30 metri nella pericolosa area che separa le due linee, detta appunto terra di nessuno. I tunnel vengono usati per spiare i tedeschi e, come rifugio temporaneo, per i pochi che riescono ad entrarvi durante un bombardamento. Immaginate che a circa 50 metri da qui le forze tedesche siano asserragliate in un punto più alto. Qui, sotto gli alleati inglesi, canadesi, eccetera, cercano di usare ogni risorsa possibile per guadagnare un vantaggio. Così scavano questi tunnel soprattutto per ricognizione, per spingersi più vicino al nemico e carpire qualunque tipo di informazione, intercettando i discorsi dei soldati o osservandoli da vicino. Mentre gli alleati usano i tunnel per spiare e pianificare attacchi, i tedeschi adottano un approccio diverso, sfiancare il nemico e superarlo in resistenza. Anche la chiave di questa strategia è nel sottosuolo. Martin ci porta all'interno della struttura sotterranea usata per proteggere i soldati tedeschi, che potrebbe aver salvato anche la vita del giovane Hitler. È qui che Hitler ha prestato servizio per la prima volta? Hitler ha servito qui nel 1914 con il battaglione bavarese in cui si era appena arruolato. Quindi ha corso proprio in queste trincee? Esatto. Incredibile. Che mansioni aveva? Quello che hai detto tu. Correva avanti e indietro per le trincee. Era una staffetta a portaordini. Un corriere. Ah, capisco. Quindi portava gli ordini dalla prima linea al comando e viceversa? Esatto. Quello era il suo lavoro. Nell'orrore e nello squallore delle trincee, il giovane Adolf trova quella che riconosce come la sua vera vocazione. era esattamente ciò che cercava. Aveva fallito praticamente in tutto ciò che aveva provato a fare. Possiamo dire che fosse un perdente. Certo. L'occasione giusta gli si presenta nell'agosto del 1914. Il piano Sliffen per lui è una svolta. Capisco. Si arruola nell'esercito. Si trova finalmente un'identità. Esatto. Trova un'identità. Proprio in queste trincee? In queste trincee. Questi uomini stavano seduti per anni. Si. A qualche metro l'uno dall'altro. Assolutamente. A bombardarsi a vicenda. Già. Distruggendo ogni cosa intorno. Esatto. L'intera zona era un cumulo di fango sollevato dalle bombe. Esattamente. Ci sono alcune celebre foto di soldati tedeschi in trincea. Ahà. Con dei ratti grandi così. Mio Dio. Perché era pieno di cadaveri. Sì. Il fettore doveva essere insopportabile. Sia per gli alleati che per i tedeschi la vita quotidiana in trincea è fatta di dolore e miseria. Ma i tedeschi hanno un vantaggio cruciale. Bunker sotterranei. Precursori di quelli che durante la seconda guerra mondiale arriveranno a sostenere il colpo diretto di una bomba da una tonnellata. Questo è un bunker. Un tipico bunker tedesco di prima linea in cemento armato. Guarda qui. Ah, certo. Barre di ferro. Questo rifugio è sopravvissuto a più di un bombardamento. Sì. È veramente solido e resistente. Qui si era al sicuro. È l'altezza originale. Era alto solo fino a qui. Sì, non più di così. Altrimenti non avrebbe retto. Qui i bombardamenti potevano continuare per giorni e giorni. Ah, quindi era un rifugio contro i bombardamenti. Esatto. Costruito proprio con quello scopo. E quanti uomini sarebbero entrati qui dentro? Più o meno una cinquantina. Ah, cinquanta uomini in questo buco. In questo buco, sì. Pazzesco. Era l'unico posto sicuro. Fuori c'era la morte. Certo. Qui si era protetti. Si aveva più di un metro di cemento armato sulla testa. In piccoli bunker come questo, Adolf Hitler trova il primo pubblico per le sue idee. Arrivava in un posto così, magari strisciando, e ci trovava decine di soldati. Gli raccontava cosa aveva sentito a Berlino. Partiva con la sua requisitoria come un predicatore. E su che cosa predicava, esattamente? Politica. Soprattutto politica. Il compagno di Hitler, il suo unico amico durante la guerra, è un cane che tiene alla larga i ratti. Da questo momento, il futuro Führer avrà sempre un cane con sé. Il suo amato pastore tedesco Blondi, che sarà al suo fianco quando, 30 anni dopo, si suiciderà nel bunker di Berlino. Secondo alcune stime, l'unità di Hitler perde più dei due terzi dei suoi effettivi nelle prime settimane di guerra. Ma egli riesce miracolosamente a sopravvivere quattro anni sul fronte occidentale. Sentiva finalmente di avere uno scopo, una missione, un posto nella storia. Credeva fermamente nel destino, nel fato. Certo. I quattro anni passati in trincea, a cercare di proteggersi dalle più terribili armi che si fossero mai viste, spingono Hitler in un abisso di folle odio per il nemico, mentre due eserciti scavano nel sottosuolo, in cerca di un modo per porre fine al più sanguinoso scontro della storia. Sono nel nord-est della Francia, a circa due ore e mezza da Parigi e a cento chilometri dall'attuale confine con la Germania, in un posto chiamato Vauquat. 95 anni fa avremmo camminato per i vicoli di un villaggio di appena 174 anni. Ai nostri giorni Vauquat è chiamato il villaggio perduto perché qui non c'è più nulla, a parte una complessa rete di gallerie sotterranei. Non si tratta di fogne né di catacombe ma di quasi 20 chilometri di tunnel costruiti col solo scopo di installare mine capaci di far saltare in aria il paese e di cancellarlo dalla faccia della terra. Vauquat è un villaggio a 200 chilometri da Parigi quando viene occupato dai tedeschi nel settembre del 1914. Quattro anni dopo non esiste già più completamente demolito dall'ultima innovazione militare le mine. La battaglia sotterranea per Vauquat inizia quando i tedeschi scavano dei bunker sul fianco della collina per proteggersi dall'artiglieria francese. Da questi piccoli rifugi nasce poi una sorta di metropoli sotterranea abitata da 2000 soldati è interamente scavata a mano. Incontriamo l'esperto di storia militare Demi Eidra. Demi! Benvenuto! Piacere mio! Che ci porterà nei tunnel abbandonati di Vauquat. Qui siamo in pieno campo di battaglia. Proprio così. Tutta questa terra è stata fatta saltare in aria. Sì, prima c'era un villaggio con 174 abitanti. E i tedeschi e i francesi avevano scavato qui sotto. Sì, esatto. Gli abitanti vennero evacuati nel 1914. Quando tornarono nel 18 il villaggio era scomparso. Le antenate delle mine che distruggono il villaggio francese erano state usate nella guerra civile americana ed erano in pratica proiettili d'artiglieria con un detonatore. Ma gli americani non avrebbero mai immaginato che strumenti così primitivi sarebbero diventati i mostri di Bocquà capaci di aprire un cratere abbastanza grande da contenere un jumbo jet. Dopo tre anni il livello delle esplosioni cresce così tanto che i soldati dei due schieramenti collaborano per rimanere vivi. Questa è l'entrata? Sì, è pericoloso quindi dobbiamo mettere i caschetti. Ok, dopo di te. Perfetto, si va. È qui che vivevano i soldati. È stato restaurato o l'avete trovato così? L'abbiamo trovato così non abbiamo toccato nulla. Dove siamo adesso? Questo era uno spaccio. I soldati venivano qui per comprare francobolli e cioccolata. Ah, è incredibile quanto si sia ben conservato. È vero. I dormitori sono al sicuro protetti da dieci metri di terra ma per combattere i tedeschi devono lasciare il rifugio e salire questi gradini. In pochi secondi erano in trincea pronti a combattere i francesi. Quindi le scale arrivavano lì? Nella trincea della prima linea. Per non lasciare nulla di intentato i tedeschi si affidano alle armi più moderne mine che possono essere preparate nella relativa sicurezza del sottosuolo. Quanto siamo scesi? Circa 50 metri. 50 metri quindi più di 150 piedi. Esatto. Ok, livello 2. Si scende al livello 3. Fai quello che faccio io. D'accordo. Non è difficile. È vero, è solo molto ripido. il primo e secondo livello del complesso di Bocquat includono dormitori, cucine, infermerie e generatori. Nel terzo livello che raggiunge una profondità di 50 metri vi sono tunnel lunghi e stretti che si estendono oltre le linee dell'intesa con lo scopo di far detonare mine di enormi dimensioni. Sull'altro lato della collina i francesi iniziano a scavare a loro volta. I francesi sapevano di non poter attaccare le trincee e... Era impossibile. Allora provarono da sotto. Esatto. Quindi all'inizio della guerra si iniziò a scavare da entrambe le parti. Sì, per tre anni tutti i giorni. I contendenti scavano sempre più in profondità decisi a cacciare il nemico dalla collina. Le mine diventano sempre più grandi fino ad arrivare a pesare ben 60 tonnellate. Abbiamo 50 metri di terra da qui alla superficie sopra le nostre teste. Una mina fatta esplodere qui potrebbe arrivare fino in superficie? Certamente. Quanto erano frequenti queste esplosioni gigantesche? In tre anni di guerra ne sono esplose 520. Oh, mio Dio. Quasi una ogni due giorni. Mi meraviglia che il villaggio sia scomparso. Con l'aumentare delle esplosioni i contendenti cercano in ogni modo di assicurarsi un vantaggio. Usavano gli stetoscopi come questo qui e spiavano i tedeschi i quali facevano lo stesso. Perciò qui erano tutti al buio e soprattutto in silenzio. Certo. Prendevano gli stetoscopi e si mettevano a sentire. Dove erano gli altri? In alto o in basso? Facevano i calcoli e individuavano la posizione del nemico. Una volta determinata la direzione dello scavo nemico si faceva di tutto per bloccarlo con l'aiuto della dinamite. Allora le mine venivano fatte esplodere per bloccare i tunnel del nemico. Proprio così. Perciò nessuno avanzava come sul resto del fronte occidentale. Esatto. La differenza è che altrove si combatteva in trincea. Esatto. Qui si combatteva sottoterra. Ma nel 1917 si sviluppa una sorta di alleanza tra chi scava da direzioni opposte. I tre anni di guerra erano stati terribili da entrambe le parti. così a volte ascoltavano l'attività del nemico e gli suggerivano di smettere di scavare di fermarsi e quelli si fermavano. Avevano compreso l'inutilità di tutta l'operazione. Sì. Dicevano se faremo esplodere una mina sarà alle 19 né prima né dopo. Cioè avvertivano il nemico che stavano per far esplodere una mina. Esatto. Questo tipo di solidarietà tra avversari fa infuriare gli estremisti come Adolf Hitler. Egli è testimone della celebre tregua di Natale del 1914 quando soldati di schieramenti opposti sul fronte occidentale posano le armi per scambiarsi regali e addirittura giocare a calcio. Hitler si rifiuta di partecipare e più tardi scriverà che tra nemici non deve esserci alcuna comprensione. Ma alla fine anche Hitler avrebbe ammesso che la battaglia di Vauqua non aveva senso. Nella primavera del 1918 15.000 uomini sono già stati uccisi senza che nessuna delle parti sia riuscita ad avanzare di un centimetro. Con l'avvicinarsi degli americani i tedeschi lasciano Vauqua lasciandosi dietro un regalo mine inesplose. Guardate ci sono 100 tonnellate di dinamite inesplosa sotto quell'acqua. Ho cercato di vedere cosa fosse rimasto di armi così orribili da spingere dei nemici ad aiutarsi a vicenda. Ci sono tre grandi mine ancora inesplose in questo tunnel. Col tempo la falda freatica si è innalzata e le ha sommersi. Non posso avvicinarmi troppo potrei mettere i piedi nel posto sbagliato e non voglio sfidare la fortuna. Immaginate quegli uomini qui sotto che ormai parlano tra loro. Radolf Hitler è il peggior tradimento. Soldati tedeschi che parlano sottoterra con i francesi. È furioso come tanti altri per il cedimento dei vertici tedeschi a fronte di un esercito che non aveva mai ceduto. È un risentimento che si porterà dietro per tutta la vita e che in pratica causerà la seconda guerra mondiale. La grande guerra è in gran parte un brutale ed estenuante susseguirsi di attacchi che non portano alcun risultato. il sangue copre intere regioni e quando la Germania spinge il grosso della sua potenza militare verso il nord-est della Francia inizia una delle più terribili carneficine della guerra e dell'intera storia dell'umanità la battaglia di Verdun. Fort Duamont è l'obiettivo principale è considerata la più potente piazzaforte d'Europa l'orgoglio dell'esercito francese ed è quasi interamente sotterraneo. 240 chilometri a est di Parigi Verdun è una città di importanza vitale per il fronte occidentale per i tedeschi rappresenta l'ultimo ostacolo sulla strada per la capitale francese per i francesi è l'ultimo baluardo. Quasi 400.000 persone moriranno qui Hitler verrà ferito in un'altra battaglia sul fiume Son soprattutto rimarrà assegnato da quello che considera il tradimento dei leader tedeschi e non si fermerà davanti a nulla pur di portare il mondo intero sotto un nuovo ordine. Gli scontri più feroci che fomenteranno questo risentimento si concentrano sul centro delle fortificazioni francesi Fort Duamont e vedranno l'utilizzo delle armi più terribili del tempo. Stiamo per incontrare Julien Coquet che ci porterà nelle viscere del forte dove centinaia a volte migliaia di uomini cercano rifugio dalla violenza dei bombardamenti. Entriamo qui? Sì, proprio qui. È un'entrata inquietante vero? Prego. Il forte è molto grande. Sono circa tre chilometri di tunnel. Davvero? Guardate qui. Che cos'è questa roba? È una postazione di artiglieria. Accidenti! Questo cannone da 155 mm insieme ad altri due pezzi da 75 e tre mitragliatrici protegge il forte. Con i suoi tre chilometri di ambienti sutterranei Fort Duamont è considerato imprendibile anche per la tecnica costruttiva. Pareti in muratura spesse un metro coperte da un metro di sabbia da due metri e mezzo di calcestruzzo e infine da tre metri di terra. Il risultato è uno spessore protettivo a prova di proiettile largo quasi otto metri con in cima i pezzi d'artiglieria un rifugio che sembra impenetrabile e indistruttibile. Veramente incredibile. Pipistrelli! Qui sopra dici? Ah sì, eccoli qua. Guardate quanto è grande questo pezzo d'artiglieria. Questo puntava all'esterno in quella direzione? Sì, è nella posizione originale. Il cannone ha una gittata di circa 6 chilometri e mezzo e può sparare tre proiettili da 43 chili al minuto. È un vero incubo per chi deve attaccare a piedi dal fronte opposto. Ma vedete che bocca da fuoco. È il pezzo da 155 che era installato in questo punto. È questo il motivo che lo rendeva così speciale ed è anche questo il motivo per cui i tedeschi lo volevano. Nel 1916 i tedeschi si abbattono su Verdun forti di armi ancora più devastanti dei cannoni di Duamont. La Grande Guerra è il debutto su larga scala del lanciafiamme. Una mostruosità portatile che sputa fuoco fino a 80 metri bruciando chiunque si trovi davanti. Ma soprattutto vi sono i giganteschi cannoni da 420 mm soprannominati Grandi Berte. Hanno una gittata di 12 chilometri e mezzo e hanno già distrutto tre città fortificate. Ora sono puntati su Duamont e i francesi sono costretti a cedere il forte. La fortezza simbolo dell'orgoglio militare francese cade in mani nemiche senza sparare un corpo. Il forte venne preso dai tedeschi nel febbraio del 1916. Quindi furono i tedeschi ad usare questo cannone? In realtà no perché sembra che i francesi l'avessero sabotato prima di ritirarsi. Capisco. Pur non potendo usare i pezzi di artiglieria i tedeschi fanno buon uso di Fort Duamont guardate che posto alloggiandovi fino a 3000 uomini un ospedale e grandi riserve di munizioni. E questo? È un letto doppio. Proprio così due uomini di sopra e due di sotto. Ah era un letto per quattro. Risparmiavano spazio. Qui dentro ci si poteva sentire al sicuro. Lo soprannominarono Forte Zio Duamont. Zio Duamont? Esatto. Sapevano che avrebbero potuto essere là fuori in trincea invece qui era come stare in casa. Buon per loro. Determinati a riprendersi il Forte e a riscattare l'onore nazionale i francesi attaccano con l'artiglieria pesante e con sanguinose offensive da terra. Quante persone sono morte? In tutta la battaglia più di 300.000 tra francesi e tedeschi. Nel giugno del 1916 l'intesa dà il via ad una controffensiva sul vicino fiume Somme dove il soldato Adolf Hitler viene seriamente ferito e rimandato in Germania per le cure mediche. Ma la battaglia soprannominata il Tritacarne di Verdun continua per altri sei mesi. Quante bombe cadevano qui ogni giorno? Circa 2.000 proiettili al giorno. 2.000 proiettili praticamente era un'azione costante. In alcuni giorni ne arrivarono anche 10.000 qui sul forte. Come si è vissuto qui durante quei 300 giorni? Ogni volta che il forte veniva colpito tremavano i muri. Certo. E parti di Intonaco potevano cadere sui soldati. E il bombardamento era costante. I francesi non smisero mai un proiettile ogni 30 secondi. ma stia nei primi dieci mesi di battaglia vengono sparati 40 milioni di colpi d'artiglieria. Questo è il suono di un colpo? Di un colpo di medie dimensioni. Ah ok. Mamma mia! Beh è fortissimo eh? E' continuo. Immagina di sentirlo 2.000 o 10.000 volte al giorno. Alcuni soldati persero il senno qui dentro. Davvero? Sì molti si suicidarono non riuscivano a sopportare il rumore e l'orrore che li circondava. Disturbo post-traumatico da stress? Studiato per la prima volta proprio durante la grande guerra. E' una malattia che nessuno ha mai visto e che nessuno capisce. I sintomi vanno dall'insonnia e l'ansietà al totale esaurimento nervoso e ai tic più impressionanti. molti ridicolizzano le vittime del disturbo accusandoli di debolezza e codardia. Gli uomini faticano a mantenere il controllo ma anche il forte inizia a dare segni di cedimento. Siamo a 14 metri di profondità nel primo livello interrato e guardate sopra la mia testa. Tutte queste stalattiti si sono formate per le infiltrazioni di migliaia di piccole crepe create dalle migliaia di proiettili caduti sul forte durante la battaglia di Verdun. dopo mesi di martellamento gli occupanti tedeschi ricevono un colpo devastante. Un fornelletto per cucinare viene acceso troppo vicino ai proiettili inutilizzati della torretta. L'immane esplosione che ne deriva uccide centinaia di uomini. Voglio mostrarti una cosa. Qui in questo pozzo di ventilazione sembra che ci sia un elmetto tedesco. Un elmetto tedesco? Ah, eccolo. Ma com'è arrivato lì? Pare che con l'esplosione la testa del soldato tedesco sia saltata in aria insieme a tutto l'elmetto. Quindi qui dentro c'era il cranio e tutto il resto? Crediamo di sì. E' pazzesco. Finalmente, dopo mesi di carneficina, i francesi scatenano sul forte una nuova arma. Un cannone da 400 mm capace di sparare proiettili da una tonnellata a 1500 km l'ora. Ritornarono al forte grazie a questa bocca di fuoco, questo mortaio da 400 mm. Era il calibro più grande dell'esercito francese. I tedeschi realizzarono che non avrebbero potuto difendere i forti contro un'arma del genere. Esatto, bastava che un colpo raggiungesse il deposito delle munizioni. Così preferirono evacuare. Capisco. Fu una vittoria importante per i francesi, una rinascita. Per l'esercito francese, ma anche per la popolazione. Immagino che li abbia accompagnati fino alla fine della guerra. Esatto, fino alla fine. E tutto è iniziato a Fort Duamont. Proprio così. Ho capito. All'inizio del 1917, la Grande Guerra è in corso ormai da due anni e mezzo. L'intesa si sta leccando le ferite. I bagni di sangue di Verdun e della Somme li hanno decimati nel numero e scossi nel morale. C'è bisogno di un piano, di un modo per finire la guerra assestando un singolo rapido colpo al fronte tedesco. Ma gli strateghi militari hanno bisogno di uno stratagemma, qualcosa che faccia vacillare i tedeschi prima dell'offensiva. Così preparano un attacco a sorpresa dal sottosuono. Dopo due anni di inutili massacri, i francesi iniziano segretamente ad ammassare truppe nella regione dello Champagne, al limite sud dei 100 chilometri di fortificazioni tedesche conosciute come Linea Indenburg. Al capo settentrionale, il caporale Adolf Hitler presta servizio come messaggero, completamente all'oscuro di una massiccia azione diversiva che gli inglesi stanno preparando proprio sotto ai suoi piedi. i britannici scelgono di lanciare l'attacco dalla città medievale di Arra, dotata di antichi e misteriosi sotterranei. Stiamo per visitare il più grande sistema sotterraneo mai creato dall'esercito inglese. È questo sistema che permise all'intesa di catturare più territori nemico in un giorno di quanto ne aveva guadagnato in anni. A quanto pare, l'intera città è percorsa ad antiche gallerie che gli inglesi usarono per scopi militari. Ora incontreremo un archeologo locale che ci porterà a visitarle. Alain! Ciao, benvenuto! Alain Jacques e i suoi colleghi erano alla ricerca di una miniera medievale quando hanno scoperto un sistema di gallerie che ha giocato un ruolo fondamentale in tempi più moderni. Quindi questa è una delle piazze principali di Arra? Sì, esatto. E c'è un sistema segreto di tunnel che passa sotto a tutta la zona. Favoloso! Lo vediamo? Da questa parte? Di qua. Ok. Venite con me. Eccoci, ti seguiamo! Abbiamo appena lasciato la strada e siamo entrati in un ristorante. E qui sotto nella cantina c'è un tesoro. Ma che succede qui? Siamo scesi di un piano e ora scendiamo ancora. Guardate! Guardate! a che profondità siamo, Alain? qui a circa 12 metri. 12 metri, quindi circa 36 piedi. Incredibile! Era una delle entrate alle gallerie e da questo sotterraneo, da questa cava, era possibile raggiungere le trincee della prima linea tedesca 3 km ad est della città. Siamo scesi di quattro livelli, dalla strada all'interrato del ristorante, poi in una cantina medievale e infine in una cava di gesso risalente al 15esimo secolo. Nella Prima Guerra Mondiale, quando l'intesa scopre i tunnel, mette a punto un piano brillante. Collegare le cave scavando altre gallerie, capace di far arrivare un intero esercito direttamente sulla prima linea tedesca, evitando l'inferno della terra di nessuno. Quest'area non è aperta al pubblico? No, è troppo pericoloso farci entrare i turisti, ma noi possiamo entrare. Ci sono zone pericolanti? Esatto. Ah, fantastico. Ed è tutto scavato a mano? Sì. Guardate qui, incredibile. A che profondità siamo? Circa 20 metri. 20 metri, quindi 60 piedi. Per trasformare le antiche cave in un moderno sistema sotterraneo senza far crollare tutto, gli inglesi si affidano a scavatori esperti, molti dei quali sono maori provenienti dalla Nuova Zelanda, l'angolo più lontano dell'impero inglese. Questa scritta che cosa dice? Entrata. Entrata a Blenheim. Esatto. E dov'è Blenheim? È una città in Nuova Zelanda. I neozelandesi hanno messo una vera indicazione stradale, un cartello per non perdersi nel labirinto di questi tunnel. in appena sei mesi di lavoro viene scavato un sistema di 20 chilometri di tunnel che passa sotto la terra di nessuno e porta praticamente di fronte alla prima linea tedesca. Mentre Hitler ringa i commilitoni sulla politica e le tattiche militari, migliaia di soldati dell'intesa aspettano sotto ai suoi piedi pronti a scatenare un attacco a sorpresa. Sono arrivati appena a 10 metri dalla prima linea. L'idea era di saltare fuori davanti ai tedeschi. Sì. Quindi tutto questo fu fatto in totale segretezza all'insaputa del nemico. Esatto. Approfittando del buio gli inglesi iniziano ad ammassare truppe nelle gallerie delle cave. Per otto giorni prima dell'attacco 24.000 soldati dell'intesa rimangono nascosti. I tunnel fungono da vere e proprie caserme organizzate. E i soldati lasciano un segno della loro presenza. Ehi, guardate qui. Una croce. È vero, eccola. Hanno praticamente scolpito le croci sul muro. Esatto. Un volto di donna e Charlie Chaplin disegnato sul muro. Sì. Avevano tutto. Le caserme, le strutture mediche, un sistema idrico centralizzato. Vedete questi tubi? Nel 1917 ad aprile qui avrei potuto fare la doccia. Così, dopo tutti i preparativi, mesi e mesi di scavo, di raccolta e di sistemazione delle truppe, arriva il giorno dell'attacco. 24.000 uomini devono lasciare il sottosuolo in diverse ondate. Sì. Come fanno? Da qui. Passano da qui. Da questa scalinata? Già. È una vera scala per l'inferno. Oh mio Dio. Ma è lunghissima. Già. Incredibile. Guardate, provate a immaginare. Qui ci sono decine di scalini e su ognuno di essi ci sarebbe stato un soldato inglese in attesa di andare in battaglia. Tutti allineati qui, con i grandi sacchi sulle spalle, con le armi, gli elmetti, le munizioni e naturalmente le speranze e le preghiere. Non sapevano cosa li aspettasse in cima. Non sapevano se i tedeschi li stessero aspettando. La cosa incredibile è che lo stesso Adolf Hitler si trova proprio qui vicino. Ma lui non sa che si sta progettando un attacco a sorpresa proprio sotto al suo naso. E ci sono uomini pronti a salire di corsa a questi gradini l'uno dietro l'altro. Fuori! 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 È uno scenario davvero incredibile. Gli soldati inglesi stanno per uscire nelle trincee. Ma guardate che cosa trovano qui. Una porta di ferro. E poi un'altra porta. E infine la porta dell'inferno nelle trincee. L'uscita oggi è sigillata ma avrebbe portato direttamente nelle trincee alla fine della terra di nessuno in faccia ai tedeschi. In pochi giorni le forze dell'intesa penetrano per 12 chilometri in territorio tedesco. È un'operazione brillante che però come in tante altre occasioni in questa guerra porta a un successo effimero. La linea Indenburg non cade. I tedeschi continuano a combattere e la guerra continua. Tutta questa fatica i preparativi e gli schiavi non portarono praticamente a nulla. I tedeschi riguadagnarono le posizioni perdute. come sempre nel corso della grande guerra il premio per tutto questo fu il nulla. In aggiunta agli 8 milioni e mezzo di soldati che muoiono sui campi di battaglia della grande guerra più di 20 milioni rimangono feriti. quelli che riescono a sopravvivere all'inferno ne escono cambiati per sempre. Nel 29enne Adolf Hitler le esperienze in battaglia lasciano soprattutto una rabbia cieca nei confronti del nemico sentimenti che lo trasformeranno nel peggior mostro del ventesimo secolo. Sono diretto alla cripta di una chiesa medievale che fu trasformata in infermeria tedesca all'inizio della guerra quando il massacro iniziò ad assumere dimensioni che nessuno aveva immaginato e con l'aumento delle vittime i feriti vengono ricuciti alla meglio e rispediti al fronte così come un soldato austro-tedesco con gli occhi già pieni di odio. A 10 chilometri da Ypres in Belgio sorge il villaggio di Messines. Oggi ha meno di mille abitanti ma durante la grande guerra assiste alla morte di 10.000 soldati nel corso di una singola offensiva. In generale i combattimenti intorno ad Ypres dureranno per tutta la guerra e causeranno più di 850.000 tramorti e feriti. Ciao, benvenuto! Questo è lo studioso di guerra Frankie Boston. È molto bella questa chiesa e questa è la chiesa di San Nicola. Sì, è una chiesa medievale. La cui cripta diventa nei primi giorni di guerra un'infermeria di prima linea. Era parte di una abbazia. Ah, capisco. È stata distrutta nella guerra e ricostruita in seguito. Hitler è stato qui. Sì, esatto. Nei primi giorni di guerra nel 14 e nel 15. Ah, ah. E c'è qualcosa che ce lo ricorda non nella chiesa ma nei sotterranei. Ah. Questa era la cripta della vecchia abbazia. Durante la grande guerra nel 1914 i tedeschi la occuparono e la trasformarono in un posto di guardia e pronto soccorso. In quei giorni quanto era distante la prima linea? La prima linea era in questa direzione a circa 900 metri quindi i feriti finivano subito qui sotto. Ah, ah. E qui ricevevano la prima cura. Nell'ottobre del 1914 la Germania invia il battaglione bavarese e il gruppo di Hitler ad Ypres sperando di avere rapidamente la meglio della resistenza nemica sul fronte occidentale. Entrambi gli schieramenti sembrano certi che la guerra finirà prima di Natale ma le forze francesi e inglesi reggono l'urto. I contendenti devono abituarsi all'idea di una lunga e terribile guerra di logoramento. Come avevano potuto sbagliarsi così tanto sulla guerra? Entrambe le parti pensavano di poter vincere facilmente e forse avevano ancora in mente le guerre napoleoniche che spesso si concludevano nel giro di qualche settimana pensavano ancora in termini ottocenteschi. Certo. Stavolta entrambi gli avversari in campo dispongono di armi di potenza inaudita mitragliatrici che staccano arti di netto gas tossici capaci di bruciare la pelle e lancia fiamme. Con l'aumentare delle vittime le truppe di entrambi gli schieramenti usano ogni struttura sotterranea che riescono a trovare per esempio cantine cripte trasformandole in stazioni di pronto soccorso. La cripta è sopravvissuta quasi fino alla fine della guerra. La chiesa è stata distrutta ma la cripta ha retto. Sì, la cripta ha retto coperta dalle pietre crollate in superficie che di fatto aumentarono lo spessore del soffitto. In pratica diventò un bunker. Sì, proprio così. nel 1915 quando Hitler viene ferito durante gli scontri a Messines la cripta infermeria è l'unico posto sicuro nel raggio di chilometri. Nel novembre del 1915 viene ferito ad un braccio non è una ferita grave ma deve essere curata e si pensa che fu curato proprio in questa stanza. Fu curato in questa stanza? Si pensa che sia andata proprio così. Si ferì per un atto di eroismo giusto? Sembra di sì. i francesi aprirono il fuoco e lui saltò di fronte a un ufficiale il suo superiore. Capisco. Gli salvò la vita e fu colpito al braccio il che gli valse la croce di ferro di seconda classe. L'equivalente del Purple Heart americano. Sì, più o meno. Ferito in battaglia. La croce di ferro è una decorazione militare introdotta nel 1813 nel regno di Prussia. L'assegnazione dell'onorificenza è un momento fondamentale nella vita del giovane Adolf Hitler. A un solitario come lui un perdente la medaglia dà un senso di orgoglio di appartenenza a una causa. Certo, assolutamente. Alla fine della guerra Hitler avrà accumulato sei decorazioni militari una dopo essere rimasto temporaneamente cieco dopo un attacco chimico. Alle medaglie si accompagna il risentimento per i leader tedeschi e il rancore verso i nemici. L'onorificenza più importante gli viene appuntata da un ufficiale ebreo per lui una vera e propria umiliazione. Ma la croce di ferro guadagnata sul fronte occidentale sarà portata con orgoglio per tutta la seconda guerra mondiale. Proprio qui in questo spazio così angusto il giovane Adolf Hitler viene ricoverato nel 1915 e curato per la ferita che gli vale la croce di ferro di seconda classe. È un momento fondamentale della sua vita. A questo punto sente ancora di più di far parte dell'esercito tedesco e della nazione che lui nato austriaco ha scelto come sua nuova patria. Ma quando gli occupanti tedeschi ricevono un colpo devastante. Un fornelletto per cucinare viene acceso troppo vicino ai proiettili inutilizzati della torretta. L'immane esplosione che ne deriva uccide centinaia di uomini. Voglio mostrarti una cosa. Qui in questo pozzo di ventilazione sembra che ci sia un elmetto tedesco. Un elmetto tedesco? Eccolo. Ma com'è arrivato lì? Pare che con l'esplosione la testa del soldato tedesco sia saltata in aria insieme a tutto l'elmetto. Quindi qui dentro c'era il cranio e tutto il resto? Crediamo di sì. Ti amore, è pazzesco. Finalmente, dopo mesi di carneficina, i francesi scatenano sul forte una nuova arma. Un cannone da 400 mm capace di sparare proiettili da una tonnellata a 1.500 km l'ora. Ritornarono al forte grazie a questa bocca di fuoco, questo mortaio da 400 mm. Era il calibro più grande dell'esercito francese. I tedeschi realizzarono che non avrebbero potuto difendere i forti contro un'arma del genere. Esatto, bastava che un colpo raggiungesse il deposito delle munizioni. Così preferirono evacuare. Capisco. Fu una vittoria importante per i francesi, una rinascita. Per l'esercito francese ma anche per la popolazione. Immagino che li abbia accompagnati fino alla fine della guerra. Esatto, fino alla fine. E tutto è iniziato a Fort Duamont. Proprio così. Ho capito. All'inizio del 1917 la grande guerra è in corso ormai da due anni e mezzo. L'intesa si sta leccando le ferite. I bagni di sangue di Verdun e della Somme li hanno decimati nel numero e scossi nel morale. C'è bisogno di un piano, di un modo per finire la guerra assestando un singolo rapido colpo al fronte tedesco. Ma gli strateghi militari hanno bisogno di uno stratagemma, qualcosa che faccia vacillare i tedeschi prima dell'offensiva. Così preparano un attacco a sorpresa dal sottosuono. Dopo due anni di inutili massacri, i francesi iniziano segretamente ad ammassare truppe nella regione dello Champagne. al limite sud dei cento chilometri di fortificazioni tedesche conosciute come Linea Indenburg. Al capo settentrionale, il caporale Adolf Hitler presta servizio come messaggero, completamente all'oscuro di una massiccia azione diversiva che gli inglesi stanno preparando proprio sotto ai suoi piedi. I britannici scelgono di lanciare l'attacco dalla città medievale di Arra, dotata di antichi e misteriosi sotterranei. Stiamo per visitare il più grande sistema sotterraneo mai creato dall'esercito inglese. E' questo sistema che permise all'intesa di catturare i più territori nemico in un giorno e dopo non esiste già più. Completamente demolito dall'ultima innovazione militare, le mine. La battaglia sotterranea per Bocquà inizia quando i tedeschi scavano dei bunker sul fianco della collina per proteggersi dall'artiglieria francese. Da questi piccoli rifugi nasce poi una sorta di metropoli sotterranea abitata da 2000 soldati e interamente scavata a mano. Incontriamo l'esperto di storia militare Demi Eidra. Demi, benvenuto, piacere mio. Che ci porteranno i tunnel abbandonati di Bocquà. Qui siamo in pieno campo di battaglia. Proprio così. Tutta questa terra è stata fatta saltare in aria. Sì, prima c'era un villaggio con 174 abitanti. E i tedeschi e i francesi avevano scavato qui sotto? Sì, esatto. Gli abitanti vennero evacuati nel 1914. Quando tornarono nel 1918 il villaggio era scomparso. Le antenate delle mine che distruggono il villaggio francese erano state usate nella guerra civile americana ed erano in pratica proiettili d'artiglieria con un detonatore. ma gli americani non avrebbero mai immaginato che strumenti così primitivi sarebbero diventati i mostri di Bocquà capaci di aprire un cratere abbastanza grande da contenere un jumbo jet. Dopo tre anni il livello delle esplosioni cresce così tanto che i soldati dei due schieramenti collaborano per rimanere vivi. Questa è l'entrata? Sì, è pericoloso quindi dobbiamo mettere i caschetti. Ok, dopo di te. Perfetto, si va. È qui che vivevano i soldati. È stato restaurato o l'avete trovato così? L'abbiamo trovato così non abbiamo toccato nulla. Dove siamo adesso? Questo era uno spaccio i soldati venivano qui per comprare franco bolli e cioccolata. È incredibile quanto si sia ben conservato. È vero. I dormitori sono al sicuro protetti da dieci metri di terra ma per combattere i tedeschi devono lasciare il rifugio e salire questi gradini. in pochi secondi erano in trincea pronti a combattere i francesi. Quindi le scale arrivavano lì? Nella trincea della prima linea. Per non lasciare nulla di intentato i tedeschi la cui cripta diventa nei primi giorni di guerra un'infermeria di prima linea. Era parte di un'abbazia. Ah, capisco. È stata distrutta nella guerra e ricostruita in seguito. Hitler è stato qui. Sì, esatto. Nei primi giorni di guerra nel 14 e nel 15. Ah, ah. E c'è qualcosa che ce lo ricorda non nella chiesa ma nei sotterranei. Ah. Ah. Questa era la cripta della vecchia abbazia. Durante la grande guerra nel 1914 i tedeschi la occuparono e la trasformarono in un posto di guardia e pronto soccorso. In quei giorni quanto era distante la prima linea? La prima linea era in questa direzione a circa 900 metri quindi i feriti finivano subito qui sotto. Mhm. E qui ricevevano la prima cura. Nell'ottobre del 1914 la Germania invia il battaglione bavarese il gruppo di Hitler ad Ypres sperando di avere rapidamente la meglio della resistenza nemica sul fronte occidentale. Entrambi gli schieramenti sembrano certi che la guerra finirà prima di Natale ma le forze francesi e inglesi reggono l'urto. I contendenti devono abituarsi all'idea di una lunga e terribile guerra di logoramento. Come avevano potuto sbagliarsi così tanto sulla guerra? Entrambe le parti pensavano di poter vincere facilmente e forse avevano ancora in mente le guerre napoleoniche che spesso si concludevano nel giro di qualche settimana. Pensavano ancora in termini ottocenteschi. Certo. stavolta entrambi gli avversari in campo dispongono di armi di potenza inaudita. Mitragliatrici che staccano arti di netto, gas tossici capaci di bruciare la pelle e lancia fiamme. Con l'aumentare delle vittime le truppe di entrambi gli schieramenti usano ogni struttura sotterranea che riescono a trovare per esempio cantine e cripte trasformandole in stazioni di pronto soccorso. La cripta è sopravvissuta quasi fino alla fine della guerra. La chiesa è stata distrutta ma la cripta ha retto. Sì, la cripta ha retto coperta dalle pietre crollate in superficie che di fatto aumentarono lo spessore del soffitto. In pratica diventò un bunker. Sì, proprio così. Nel 1915 quando Hitler viene ferito durante gli scontri a Messins la cripta infermeria è l'unico posto sicuro nel raggio di chilometri. Nel novembre del 1915 viene ferito ad un braccio. non è una ferita grave ma deve essere curata e si pensa che fu curato proprio in questa stanza. Fu curato in questa stanza? Si pensa che sia andata proprio così. 217 si sviluppa una sorta di alleanza tra chi scava da direzioni opposte. I tre anni di guerra erano stati terribili da entrambe le parti. Così a volte ascoltavano l'attività del nemico e gli suggerivano di smettere di scavare e di fermarsi e quelli si fermavano. Avevano compreso l'inutilità di tutta l'operazione. Sì dicevano se faremo esplodere una mina sarà alle 19 né prima né dopo. Cioè avvertivano il nemico che stavano per far esplodere una mina. Esatto. Questo tipo di solidarietà tra avversari fa infuriare gli estremisti come Adolf Hitler. Egli è testimone della celebre tregua di Natale del 1914 quando soldati di schieramenti opposti sul fronte occidentale posano le armi per scambiarsi regali e addirittura giocare a caccio. Hitler si rifiuta di partecipare e più tardi scriverà che tra nemici non deve esserci alcuna comprensione. Ma alla fine anche Hitler avrebbe ammesso che la battaglia di Vauquois non aveva senso. Nella primavera del 1918 15.000 uomini sono già stati uccisi senza che nessuna delle parti sia riuscita ad avanzare di un centimetro. Con l'avvicinarsi degli americani i tedeschi lasciano Vauquois lasciandosi dietro un regalo mine inesplose. Guardate ci sono 100 tonnellate di dinamite inesplosa sotto quell'acqua. Ho cercato di vedere cosa fosse rimasto di armi così orribili da spingere dei nemici ad aiutarsi a vicenda. Ci sono tre grandi mine ancora inesplose in questo tunnel. Col tempo la falda freatica si è innalzata e le ha sommerse. Non posso avvicinarmi troppo potrei mettere i piedi nel posto sbagliato e non voglio sfidare la fortuna. immaginate quegli uomini qui sotto che ormai parlano tra loro e Adolf Hitler è il peggior tradimento. Soldati tedeschi che parlano sottoterra con i francesi. È furioso come tanti altri per il cedimento dei vertici tedeschi a fronte di un esercito che non aveva mai ceduto. È un risentimento che si porterà dietro per tutta la vita e che in pratica causerà la seconda guerra mondiale. La grande guerra è in gran parte un brutale ed estenuante susseguirsi di attacchi che non portano alcun risultato. Il sangue copre intere regioni e quando la Germania spinge il grosso della sua potenza militare verso il... Questa è l'entrata? Sì, è pericoloso quindi dobbiamo mettere i caschetti. Ok, dopo di te. Perfetto, si va. È qui che vivevano i soldati. È stato restaurato o l'avete trovato così? L'abbiamo trovato così, non abbiamo toccato nulla. Dove siamo adesso? Questo era uno spaccio. I soldati venivano qui per comprare francobolli e cioccolata. È incredibile quanto si sia ben conservato. È vero. I dormitori sono al sicuro, protetti da 10 metri di terra. Ma per combattere i tedeschi devono lasciare il rifugio e salire questi gradini. In pochi secondi erano in trincea pronti a combattere i francesi. Quindi le scale arrivavano lì? Nella trincea della prima linea. Per non lasciare nulla di intentato i tedeschi si affidano alle armi più moderne. Mine che possono essere preparate nella relativa sicurezza del sottosuolo. Quanto siamo scesi? Circa 50 metri. 50 metri, quindi più di 150 piedi. Esatto. Ok, livello 2. Si scende al livello 3. Fai quello che faccio io. D'accordo. Non è difficile. È vero, è solo molto ripido. Il primo e il secondo livello del complesso di Vauqua includono dormitori, cucine, infermerie e generatori. Nel terzo livello che raggiunge una profondità di 50 metri vi sono tunnel lunghi e stretti che si estendono oltre le linee dell'intesa con lo scopo di far detonare mine di enormi dimensioni. Sull'altro lato della collina i francesi iniziano a scavare a loro volto. I francesi sapevano di non poter attaccare le trincee era impossibile allora provarono da sotto. Esatto. Quindi all'inizio della guerra si iniziò a scavare da entrambe le parti. Sì, per tre anni tutti i giorni. I contendenti scavano sempre più in profondità decisi a cacciare il nemico dalla collina. Le mine diventano sempre più grandi fino ad arrivare a pesare ben 60 tonnellate. Abbiamo 50 metri di terra da qui alla superficie sopra le nostre teste. Una mina fatta esplodere qui potrebbe arrivare fino in superficie? Certamente. Quanto erano frequenti queste esplosioni gigantesche? In tre anni di guerra ne sono esplose 520. Oh, mio Dio. Quasi una ogni due. I quattro anni passati in trincea a cercare di proteggersi dalle più terribili armi che si fossero mai viste spingono Hitler in un abisso di folle odio per il nemico mentre due eserciti scavano nel sottosuolo in cerca di un modo per porre fine al più sanguinoso scontro della storia. Sono nel nord-est della Francia a circa due ore e mezza da Parigi e a 100 chilometri dall'attuale confine con la Germania in un posto chiamato Vauqua. 95 anni fa avremmo camminato per i vicoli di un villaggio di appena 174 anni. Ai nostri giorni Vauqua è chiamato il villaggio perduto perché qui non c'è più nulla a parte una complessa rete di gallerie sotterranea. Non si tratta di fogne né di catacombe ma di quasi 20 chilometri di tunnel costruiti col solo scopo di installare mine capaci di far saltare in aria il paese e di cancellarlo dalla faccia della terra. Vauqua è un villaggio a 200 chilometri da Parigi quando viene occupato dai tedeschi nel settembre del 1914. Quattro anni dopo non esiste già più completamente demolito dall'ultima innovazione militare le mine. La battaglia sotterranea per Vauqua inizia quando i tedeschi scavano dei bunker sul fianco della collina per proteggersi dall'artiglieria francese. Da questi piccoli rifugi nasce poi una sorta di metropoli sotterranea abitata da 2000 soldati e interamente scavata a mano. Incontriamo l'esperto di storia militare Demi Eidra. Demi! Benvenuto! Piacere mio! Che ci porteranno i tunnel abbandonati di Vauqua. Qui siamo in pieno campo di battaglia. Proprio così. Tutta questa terra è stata fatta saltare in aria. Sì, prima c'era un villaggio con 174 abitanti. E i tedeschi che i francesi avevano scavato qui sotto. Sì, esatto. Gli abitanti vennero evacuati nel 1914. Quando tornarono nel 1918 il villaggio era scomparso. Le antenate delle mine che distruggono il villaggio francese erano state usate nella guerra civile americana ed erano in pratica proiettili d'artiglieria con un detonatore. Ma gli americani non avrebbero mai immaginato che strumenti così primitivi sarebbero diventati i mostri di Bocquà capaci di aprire un cratere abbastanza grande da contenere un jumbo jet. Dopo tre anni il livello delle esplosioni cresce così tanto che i soldati dei due schieramenti collaborano per rimanere vivi. Raggiungere le trincee della prima linea tedesca tre chilometri ad est della città. Siamo scesi di quattro livelli dalla strada all'interrato del ristorante poi in una cantina medievale e infine in una cava di gesso risalente al XV secolo. Nella prima guerra mondiale quando l'intesa scopre i tunnel mette a punto un piano brillante collegare le cave scavando altre gallerie capace di far arrivare un intero esercito direttamente sulla prima linea tedesca evitando l'inferno della terra di nessuno. Quest'area non è aperta al pubblico? No, è troppo pericoloso farci entrare i turisti ma noi possiamo entrare. Ci sono zone pericolanti? Esatto. Ah, fantastico. Ed è tutto scavato a mano? Sì. Guardate qui. Incredibile. A che profondità siamo? Circa 20 metri. 20 metri, quindi 60 piedi. Per trasformare le antiche cave in un moderno sistema sotterraneo senza far crollare tutto gli inglesi si affidano a scavatori esperti molti dei quali sono maori provenienti dalla Nuova Zelanda l'angolo più lontano dell'impero inglese. Questa scritta che cosa dice? Entrata. Entrata a Blenheim. Esatto. E dov'è Blenheim? È una città in Nuova Zelanda. I neozelandesi hanno messo una vera indicazione stradale un cartello per non perdersi nel labirinto di questi tunnel. In appena sei mesi di lavoro viene scavato un sistema di 20 chilometri di tunnel che passa sotto la terra di nessuno e porta praticamente di fronte alla prima linea tedesca. Mentre Hitler ringa i commilitoni sulla politica e le tattiche militari migliaia di soldati dell'Intesa aspettano sotto ai suoi piedi pronti a scatenare un attacco a sorpresa. Sono arrivati appena a 10 metri dalla prima linea. L'idea era di saltare fuori davanti ai tedeschi. Sì. Quindi tutto questo fu fatto in totale segretezza all'insaputa del nemico. Esatto. Approfittando del buio gli inglesi iniziano ad ammassare truppe nelle gallerie delle cave. Per otto giorni prima dell'attacco 24.000 soldati dell'Intesa rimangono nascosti. I tunnel fungono da vere e proprie caserme organizzate. e i soldati lasciano un segno della loro presenza. Ehi, guardate qui. Una croce. È vero, eccola. Hanno praticamente scolpito le croci sul muro. Esatto. Un volto di donna e Charlie Chaplin disegnato sul muro. Sì. Avevano tutto. Le caserme, le strutture mediche, un sistema idrico centralizzato. Vedete questi tubi? nel 1917 ad aprile qui avrei potuto fare la doccia. Così, dopo tutti i preparativi, ha un'azione costante. In alcuni giorni ne arrivarono anche 10.000 qui sul forte. Come si è vissuto qui durante quei 300 giorni? Ogni volta che il forte veniva colpito tremavano i muri. Certo. e parti d'intonaco potevano cadere sui soldati. E il bombardamento era costante. I francesi non smisero mai un proiettile ogni 30 secondi. Oh, mio Dio. Nei primi dieci mesi di battaglia vengono sparati 40 milioni di colpi d'artiglieria. Questo è il suono di un colpo? Di un colpo di medie dimensioni. Ah, ok. Mamma mia! Beh, è fortissimo, è continuo. Immagina di sentirlo 2000 o 10.000 volte al giorno. Alcuni soldati persero il senno qui dentro. Davvero? Sì, molti si suicidarono. Non riuscivano a sopportare il rumore e l'orrore che li circondava. Disturbo post-traumatico da stress. Studiato per la prima volta proprio durante la Grande Guerra. È una malattia che nessuno ha mai visto e che nessuno capisce. i sintomi vanno dall'insonnia e l'ansietà al totale esaurimento nervoso e ai tic più impressionanti. Molti ridicolizzano le vittime del disturbo accusandoli di debolezza e codardia. Gli uomini faticano a mantenere il controllo ma anche il forte inizia a dare segni di cedimento. Siamo a 14 metri di profondità nel primo livello interrato e guardate sopra la mia testa. Tutte queste stalattiti si sono formate per le infiltrazioni di migliaia di piccole crepe create dalle migliaia di proiettili caduti sul forte durante la battaglia di Verdun. Dopo mesi di martellamento gli occupanti tedeschi ricevono un colpo devastante. un fornelletto per cucinare viene acceso troppo vicino ai proiettili inutilizzati della torretta. L'immane esplosione che ne deriva uccide centinaia di uomini. Voglio mostrarti una cosa. Qui in questo pozzo di ventilazione sembra che ci sia un elmetto tedesco. Un elmetto tedesco? Eccolo. Ma com'è arrivato lì? Pare che con l'esplosione la testa del soldato tedesco sia saltata in aria insieme a tutto l'elmetto. Quindi qui dentro c'era il cranio e tutto il resto? Crediamo di sì. Crediamolo, è pazzesco. Finalmente dopo mesi di carneficina i francesi scatenano sul forte una nuova arma. Un cannone da 400 mm capace di sparare proiettili da una tonnellata a 1500 km l'ora. Ritornarono al forte grazie a questa bocca di fuoco questo mortaio da 400 mm. Era il calibro più grande dell'esercito francese. I tedeschi realizzarono che non avrebbero potuto difendere i forti contro un'arma del genere. Esatto, bastava che un colpo raggiungesse il deposito delle munizioni. Così. E quelli si fermavano. Avevano compreso l'inutilità di tutta l'operazione. Sì, dicevano se faremo esplodere una mina sarà alle 19 né prima né dopo. Cioè avvertivano il nemico che stavano per far esplodere una mina. Esatto. Questo tipo di solidarietà tra avversari fa infuriare gli estremisti come Adolf Hitler. Egli è testimone della celebre tregua di Natale del 1914 quando soldati di schieramenti opposti sul fronte occidentale posano le armi per scambiarsi regali e addirittura giocare a calcio. Hitler si rifiuta di partecipare e più tardi scriverà che tra nemici non deve esserci alcuna comprensione. Ma alla fine anche Hitler avrebbe ammesso che la battaglia di Vauquois non aveva senso. Nella primavera del 1918 15.000 uomini sono già stati uccisi senza che nessuna delle parti sia riuscita ad avanzare di un centimetro. Con l'avvicinarsi degli americani i tedeschi lasciano Vauquois lasciandosi dietro un regalo mine inesplose. Guardate ci sono 100 tonnellate di dinamite inesplosa sotto quell'acqua. Ho cercato di vedere cosa fosse rimasto di armi così orribili da spingere dei nemici ad aiutarsi a vicenda. Ci sono tre grandi mine ancora inesplose in questo tunnel. Col tempo la falda freatica si è innalzata e le ha sommerse. Non posso avvicinarmi troppo potrei mettere i piedi nel posto sbagliato e non voglio sfidare la fortuna. Immaginate quegli uomini qui sotto che ormai parlano tra loro. Radolf Hitler è il peggior tradimento. Soldati tedeschi che parlano sottoterra con i francesi. È furioso come tanti altri per il cedimento dei vertici tedeschi a fronte di un esercito che non aveva mai ceduto. È un risentimento che si porterà dietro per tutta la vita e che in pratica causerà la seconda guerra mondiale. La grande guerra è in gran parte un brutale ed estenuante susseguirsi di attacchi che non portano alcun risultato. Il sangue copre intere regioni e quando la Germania spinge il grosso della sua potenza militare verso il nord-est della Francia inizia una delle più terribili carneficine della guerra e dell'intera storia dell'umanità la battaglia di Verdun. Fort Duamont è l'obiettivo principale è considerata la più potente piatta di accedere il fort. La fortezza simbolo dell'orgoglio militare francese cade in mani nemiche senza sparare un corpo. Il forte venne preso dai tedeschi nel febbraio del 1916. Quindi furono i tedeschi ad usare questo cannone? In realtà no perché sembra che i francesi l'avessero sabotato prima di ritirarsi. Capisco. Pur non potendo usare i pezzi di artiglieria i tedeschi fanno buon uso di Fort Duamont. Guardate che posto alloggiandovi fino a 3000 uomini un ospedale e grandi riserve di munizioni. E questo? È un letto doppio? Proprio così due uomini di sopra e due di sotto. Ah era un letto per quattro? Risparmiavano spazio. Qui dentro ci si poteva sentire al sicuro? Lo soprannominarono Forte Zio Duamont. Zio Duamont? Esatto. Sapevano che avrebbero potuto essere là fuori in trincea invece qui era come stare in casa buon per loro. Determinati a riprendersi il forte e a riscattare l'onore nazionale i francesi attaccano con l'artiglieria pesante e con sanguinose offensive da terra. Quante persone sono morte? In tutta la battaglia più di 300.000 tra francesi e tedeschi. Nel giugno del 1916 l'intesa dà il via ad una controffensiva sul vicino fiume Somme dove il soldato Adolf Hitler viene seriamente ferito e rimandato in Germania per le cure mediche ma la battaglia soprannominata il tritacarne di Verdun continua per altri sei mesi. Quante bombe cadevano qui ogni giorno? Circa 2.000 proiettili al giorno. 2.000 proiettili? Praticamente era un'azione costante. In alcuni giorni ne arrivarono anche 10.000 qui sul forte. Come si è vissuto qui durante quei 300 giorni? ogni volta che il forte veniva colpito tremavano i muri. Certo. E parti d'intonaco potevano cadere sui soldati. E il bombardamento era costante. I francesi non smisero mai un proiettile ogni 30 secondi. Oh, mio Dio. Nei primi dieci mesi di battaglia vengono sparati 40 milioni di colpi d'artiglieria. Questo è il suono di un colpo? Di un colpo di medie dimensioni. Ah, ok. mamma mia. Beh, è fortissimo, eh? È continuo. Immagina di sentirlo 2.000 o 10.000 volte al giorno. Alcuni soldati persero il senno qui dentro. Davvero? Sì, molti si suicidarono. Non riuscivano a sopportare il rumore e l'orrore che li circondava. Disturbo post-traumatico da stress? Studiato per la prima volta proprio durante la Grande Guerra. È una malattia che nessuno